Una sfera di luce nell'opera teatrale, una fatina alata e dispettosa nel celebre romanzo, aggiustatrice di pentole segretamente innamorata di Peter Pan, vestito di dorate gocce di resina e verdi foglie, e che si rifiuta di diventare adulto. È stata ispirata a Trilly, indimenticabile personaggio nato dalla fervida fantasia di James Matthew Barry, la grande pupatta di Cartapesta, come sempre protagonista del Carnevale di Villetta Barrea, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Pupatta che, come sempre al termine della festa, in un rito collettivo di purificazione e di buon auspicio, ha preso fuoco per tornare cenere. Una tradizione, quella della pupatta, che ha alle sue spalle oltre un secolo di storia, emigrata anche assieme ai villettesi in cerca di fortuna, oltre l'oceano, dove infatti una grande pupatta di Cartapesta sfila da anni nel corteo del Columbus Day di Pittsburgh. Tradizione riportata in auge, da 16 anni a questa parte, dalle volontarie e volontari dell'Associazione Culturale Pietramara. Quest'anno l'abbiamo dedicato alla favola di Peter Pan, l'isola che non c'è. In realtà questa figura, questo Carnevale, un po' rappresenta la bellezza che ancora si può trovare dentro ognuno di noi, ma anche nei luoghi che ci ospitano. Lo abbiamo praticamente fatto nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, un luogo meraviglioso. Crediamo nei sogni, crediamo che il bene c'è e c'è ovunque in ognuno di noi e la favola di Peter Pan in qualche modo ci dà la forza e il coraggio di andare avanti e di credere ancora nei sogni e nella potenza umana, perché insieme si può fare tanto.